Chiamarlo purificatore d'aria è alquanto riduttivo, vista la tecnologia di derivazione spaziale di cui è composto, anche se poi in realtà è quello che fa, ovvero azzerare completamente nell'aria la carica batterica e microbica negli ambienti dove è collocato. È stato donato questa mattina dall'Associazione Maruzza al reparto di pediatria dell'ospedale Santa Croce di Fano un macchinario per rendere sana l'aria in un reparto molto particolare come la pediatria dove la salubrità degli ambienti è molto importante vista la costante commistione di persone adulte che provengono dall'esterno e di piccoli pazienti ricoverati. Nella città dei bambini e delle bambine un'associazione che opera nel campo delle materie rare proprio con i pazienti più piccoli non poteva che nascere questo frutto e quindi da questa mattina consegnato nelle mani della dirigenza del reparto alla presenza dei vertici anche di Marche Nord, questa avanzatissima tecnologia oggi è presente grazie all'associazione nell'ospedale di Fano, primo assoluto nella regione Marche a dotarsene. Il regalo di questo beyond che abbiamo fatto è un'ulteriore tutela ed è elevare se possibile l'eccellenza di questo reparto Fano città dei bambini, io sono felice che parte proprio da Fano questo input a tutti gli ospedali delle Marche adottarsi e aiutare i bambini malati perché noi parliamo sempre di città dei bambini, città dei bambini pensiamo ai bambini malati che sono coloro che hanno più bisogno di noi, la nostra attenzione è riguata loro. La tecnologia dicevamo di cui si avvale questo presidio è di derivazione aerospaziale infatti è la stessa utilizzata dalla NASA, l'ente spaziale americano, per le stazioni orbitanti e le navicelle tipo shuttle che ospitano gli astronauti per rendere appunto l'aria più sana che respirano e abbattere così la presenza di pericolosi patogeni che possono compromettere le missioni orbitanti. Questa macchina praticamente nell'arco di un ambiente riesce 24 ore ad abbattere tutti i batteri, i microbi che ci sono e tutti gli organismi monocellulari e quindi non infastidisce assolutamente l'essere umano, i cani, i gatti insomma tutti gli animali domestici e quindi dà una protezione molto alta per quanto riguarda tutta l'aria che gira per la casa perché viene ossigenata, quindi gira aria ossigenata per ossido di idrogeno.